quali sono le differenze fra la caduta dell'uomo e lo stato del peccato originale tutti conoscono la storia dell'albero e della mela che sta all'inizio della bibbia ma di cosa parla non delle mele ma nemmeno di altri frutti parla di questo l'uomo è una creatura a cui sono donati ragione e volontà ed è creato per partecipare alla vita divina può conoscere il creatore e rispondere all'amore di dio con il suo ma non lo fa l'uomo si reputa meraviglioso così meraviglioso che non gli importa di dio o dei suoi comandi l'uomo non dirige la sua vita verso dio anzi pensa di essere il centro dell'universo ti sembra coraggioso in realtà non è buono infatti l'uomo non è l'origine e il fine di tutte le cose non è il centro dell'universo le cose non sono messe come lui reputa meglio facciamo un esempio se io metto una pianta di pomodori in un ripostiglio e dico baldanzoso sarà cresciuta non ho ancora raccolto nessun pomodoro per la natura una pianta di pomodoro ha bisogno di luce acqua e calore tra le altre cose quello che io voglio non importa nulla così succede che quando l'uomo si mette al centro di tutte le cose qualcosa non funziona né per lui né per il resto volendo essere come dio e inalzandosi fino al posto di dio distrugge l'ordine tra lui e dio ma anche tra lui e il resto della creazione questo è successo all'inizio del genere umano lo chiamiamo caduta dell'uomo la caduta ha conseguenza amare per l'umanità primo l'uomo perde l'amicizia con dio perde la grazia santificante secondo rimane afflitto da una serie di mali fisici invece di andare tranquillamente nell'aldilà c'è la morte che strappa il corpo dall'anima d'ora in poi l'uomo è afflitto dal dolore e deve combattere il disordine delle potenze interiori queste conseguenze sono dolorose ma non sono semplicemente una ritorsione o la vendetta di dio al contrario sono il primo passo di dio verso l'uomo caduto nell'esperienza della fragilità l'uomo caduto può iniziare ad afferrare che è sulla strada sbagliata che non è il centro dell'universo che tutte le cose non girano attorno a lui può iniziare a realizzare che è una creatura che è orientata verso il creatore che l'isolamento in se stesso è doloroso e distruttivo l'uomo deve riconoscere questo e rivolgersi a dio perfino oggi possiamo sentire le conseguenze della caduta dell'uomo quando entriamo nel mondo ci manca la grazia santificante facciamo esperienza del disordine nella nostra anima e nelle emozioni e sappiamo di essere mortali la morte arriverà un giorno tutto questo pesa duramente su di noi questo stato in cui nasciamo è detto stato di peccato originale e lo stato del peccato originale non ha a che fare con la colpa personale ma descrive la condizione di caduta del genere umano che abbiamo ereditato ecco cosa significano la caduta e lo stato del peccato originale la caduta è ciò che è successo all'inizio del genere umano lo stato di peccato originale è una conseguenza